il mistero e la magia nel filò della stalla si usava nelle vecchie famiglie contadine far filò nelle stalle delle barchesse chiacchierare e raccontare ai bambini storie e fiabe intorno al fuoco durante le lunghe sere d'inverno assaporare a pieno l'atmosfera tipica del filò contadino in un palcoscenico del teatro parrocchiale dove in questo spettacolo si rianima lo scenario di una stalla tra le armonie musicali e i racconti di un tempo i cantastorie si alternano nel racconto di leggende legate al castello e ai luoghi sospetti di storie e dicerie di cui la superstizione fa da padrona grazie a tutti grazie a tutti